Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei portare sul canale un nuovo gioco, un gioco a cui sto giocando sul telefono. Può giocare anche da PC. Non è il classico sparatutto, si tratta di Solo Leveling Arise. Quello che volevo portarvi oggi sono appunto delle evocazioni dei personaggi, personaggi e armi, che serviranno appunto per poi andare a proseguire con la storia e fare anche gli eventi secondari e altre cose. Eccoci qua su Solo Leveling Arise. Io ci gioco già da telefono, sono già a livello 80, che è il livello massimo. Adesso ovviamente non è finita qua, sono tante cose da fare, sono in realtà relativamente anche abbastanza indietro. La storia normale l'ho quasi finita tutta, devo sfidare l'ultimo boss. In hard sono anche al 66%, sono un po' di cose da fare. Oggi non sono qua a spiegarvi il gioco, volevo vedere semplicemente se vi sarebbe piaciuto questa tipologia di giochi. Quello che volevo portarvi è questo mega sorteggio. Il sorteggio è praticamente la ricerca dei personaggi per potenziarli, delle armi, anche quelle da potenziarli. Adesso ho preso queste qua, questi due personaggi e queste due armi che ho selezionato. Possiamo mettere anche tutti i personaggi o solo armi, che hanno una maggiore probabilità di uscire. Però ovviamente non ha detto che escano per forza quelle. Quando troviamo un SSR, che appunto è la categoria di personaggi più difficile da trovare. Questo è il nuovo personaggio, Soyunyo, che ho già pullato. E niente, oggi andremo a fare questo pull di 720 biglietti, che è un pull abbastanza grande, impegnativo. E spero di trovare la nuova arma che devo ancora pullare, che è questa qua, questo arco. Perché è molto, 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 molto forte. Direi bando alle ciance e iniziamo. Io sono un fan di solo leveling, qua non abbiamo trovato nulla di che. Mi sto comprando anche tutti quanti i cartacei in italiano. Non abbiamo trovato niente. Speriamo di beccare qualche SSR decente. Eccolo qua, qua c'è un SSR. Ok, ok, ok. Cha è in. Ha doppio SSR. Ah, anche Minbyungu. Questo è un healer. Bene. Bello, bello il doppio pull. Qua possiamo anche schippare tranquillamente l'animazione di quando non becchiamo un SSR. Dovebbe venire fuori rosso, ma non c'è. Vediamo in bene, anche perché ho veramente bisogno di potenziare un po' i personaggi. Così come anche il personaggio principale su un Jinwo per poter progredire al meglio. È tutto complicato, ci sono le armi, ci sono i set, i equipaggiamenti. Eccolo qua, questo è un SSR. Bene. Sai che ci piace? Vediamo chi troviamo. Dammi la nuova arma, ti prego. Eccolo! Proprio quello che volevo. Anima della Fenice. Bene, bene, bene. Questa qua va potenziata subito, dopo vi mostrerò il potenziamento. Ma possiamo proseguire. Uh, un altro SSR. Quella. Abbiamo già avuti tre, eh. Guardate che è veramente tanto. Tra cui due su un unico pull. È assurdo. Ok. Cha-in di nuovo. Ok. Tra l'altro, adesso, Cha-in. Dovei averla... Quello che mi interessa a me è portare Cha-in a livello 5. E possiamo farlo, perché ne abbiamo trovato altre due. Quindi questo è quello che mi interessava, intanto. Facciamo salire anche Minbyongu. Cambio leggermente un attimo il sorteggio. Visto che abbiamo già pullato tutte le Cha-in. Di solito, dopo il sessantaquattresimo pacchetto, vedete qua. Ottanta pacchetti. A ottanta è sicuro che comparirà un SSR. Dopo 64 sorteggi, aumentano le probabilità di un beccare un SSR. Per quello andiamo avanti con questi anche abbastanza veloci, tutto sommato. Anche abbiamo veramente tanti pull da fare. Me lo sentivo... Ah, sì, sì. Vedi che me lo sentivo un SSR? La gente mi chiama l'arma definitiva. Ecco lo... Tac. Lui è anche buono. Cha-in Gi. Cha-in Gi. Non ci interessava al momento, perché un personaggio di fuoco, quello nuovo, ce l'ho. Però anche lui è bello forte. Qua me lo sento, dai che viene fuori qualcosa. Oh, sì, sì, sì. Oh. Uh, la Plumsword. È una... Questa e l'arma nuova sono le migliori armi. Perfetto. Quello che interessa a me è sempre portarle al livello 5, almeno. Si può in totale portarli fino al livello 10. Quindi tu puoi pullare lo stesso personaggio per 10 volte per poterlo potenziare al massimo. 440, ho beccato la nuova arma solo una volta. Ok. Di nuovo Choi Jong-gi. Vedete, anche se ho messo come aumento probabilità, qui 4, ho messo le 4 tra armi e personaggi in preferenze. Puoi comunque pullare un altro personaggio. Ok, un'altra SSR. La Plumsword. Eccola. Bene. E anche lei dovrebbe averla a livello 5 tecnicamente. Possiamo continuare il sorteggio qua. Io direi di fermarci con la Plum. Mettere magari un altro personaggio. Dai. Adesso un SSR. Me lo sento. Ok. Sì, invece. Di nuovo Minbyong-gu. Ok. È un ottimo healer di luce. Può essere utile secondo me in futuro. Eccola Jinbo Seo. Buono due cose. Due SSR subito così. Ok, dai. Questo è il pull dell'SSR. Dai. Eccolo. Oh, ma li chiamo. Li chiamo io, li chiamo. Vediamo chi c'è. Eccola Alicia Blanche. Alicia è fortissima. Alicia veramente è una bomba. Dai, il prossimo pull è un SSR. Vediamo se si indovina anche stavolta. No. Peccato. È già stato abbastanza fortunato fino adesso. Diciamolo. Eccolo qua l'SSR. Boom. Gli Hunter sono eroi. Chi è? Libora? Ah no, è Malorent. Ok. Ok. Ci piace. Ci piace. L'arma nuova mi serve. L'arma nuova, caspita. Adesso. Arma nuova. Niente. Oh, aspetta. SSR. No. Ok, vabbè. La falce ombra. La prendiamo. La prendiamo. La prendiamo. Non mi dispiace. Anche questa è un'ottima arma per fare doppia oscurità. Quindi come posso equipaggiare due armi a Sun Jin Wo? La falce è sempre ottima. Gli ultimi 50 bigliettini. Vediamo. Eccolo qua. Dai, dammi l'arma nuova, ti prego. Ok. No. È Libora. Peccato. Basta. Direi che ci possiamo fermare qua. Mancano 7 biglietti. Iniziamo a rimetterli da parte per un prossimo pull. Allora. Io direi di potenziare tutti i personaggi potenziabili. Emma Laurent. D1. Choi Jong-hee. D2. Quindi arriva già al livello 5. Un messaggio. Ah. 5 biglietti. Regalati. Dal gioco. Vai. Allora facciamo un altro sorteggio. Quest'arma nuova è bella forte. Bella, bella forte. E poi potenziamo la falce. La stavo portando anche al 100 la falce. Perché, come dicevo, è molto, molto buona. Si è combinata insieme a questa spada qua. La spada demoniaca Fiore di Prugno. La Plum Sword. Io non sono ancora fortissimo con Sun Jin Wo. Ho delle ottime skill, secondo me. La ulti potenziata al massimo. Il problema sono questi. Mi hanno dato un sacco di pacchetti perché ho pullato un sacco. Ragazzi, mi sa che qua possiamo fare altri pull. Non è ancora finita. Abbiamo altri 20 pull. Cioè, due pull da 10. Vai con questo. Dai. No. Niente. Potremmo provare questi due adesso col tasso aumentato. Ma proviamoli, visto che ci siamo. Niente. Spiriamo questo. Niente. Peccato. Ci abbiamo provato. Ho fatto degli obiettivi da altri pull. No. Niente. Peccato. Vabbè. Ce li guadagneremo facendo la storia e altre cose. Gli altri pull. Dai, compriamone 10. Solo per pullare sto SSR. Dai. Non finiamo qua. Però pullalo. Oh. Vediamo. No. Sta arma inutile. La collera di Vulcan. Niente. In ultima siamo stati sfortunati. Vabbè, dai. La prendo, la prendo. È sempre SSR. Quindi magari in futuro la cambiano la cosa. Potrebbe essere utile. Ma ora come ora non lo è. Questa è l'arma di fuoco che ci serve. L'anima della Fenice. Questa è bella forte. Vi mostro il nuovo personaggio. Come anteprima Hunter. Facciamo l'anteprima assieme. Per farvi vedere com'è il gioco a grandi linee. Ma proprio a grandi linee. Qua si tratta solo di combattere qualcuno e imparare a usare il personaggio. Su Yung potenzia i danni da lei inflitti. I danni subiti dai suoi nemici mentre attacca. Le sue skill 1 e la QTE forniscono temporaneamente l'effetto riflettore. Aumentando i suoi danni in proporzione alla statistica della sua penetrazione difesa. Le sue skill QTE, skill base 2 migliorata e skill definitiva forniscono l'effetto arma magica. Ma fanno anche apparire armi che attaccano automaticamente i nemici vicini. Infliggendo gli effetti reazione magica che aumentano temporaneamente i danni da fuoco subiti. Quando mette a segno la skill base 2 attiva il suo attacco essenziale. le fornisce il suo effetto follia che le permette di usare la sua skill base 2 migliorata. Adesso andiamo a vedere. Questo è l'attacco base. Qui praticamente stiamo imparando a usare il personaggio. Io ho già capito come usarlo più o meno. Questa è la ultimate. Scusa tutto ciò che ho imparato per sconfiggere i nemici di fronte a te. Not bad. Vediamo la ulti. Non ci ho mai giocato da PC in realtà. Ho sempre giocato da telefono. È bella forte comunque come personaggio. Quello è bello tankoso. Qui stesso ci sono le armi che gli sparano. E noi l'abbiamo macellato. Bene. Detto questo ragazzi mi raccomando ditemi se vi è piaciuto questo gioco. Ditemi se volete vedere altre pool. Scrivetemelo qua sui commenti. Mettete un like e iscrivetevi al canale. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.